Un pezzo di storia che se n'è andato, purtroppo, qualche giorno fa si è spento Enzo Losso, Enzo Cesare Losso, per la verità, che è stato molte cose per la storia, per la cultura, per la società della nostra provincia. Dopo un lungo girovagare per motivi di lavoro, tornato nel suo paese a Codissago, aveva approfondito lo studio, la ricerca delle tradizioni, delle piccole storie locali e aveva fatto questo approccio alla storia locale quando parlare di storia locale non stava ancora nei sacri testi. Oggi non c'è storico ricercatore che non si appunti la medaglia dell'aver svolto o di svolgere ricerche proprio sulla storia minuta. Allora tutto questo non era cosa di cui vantarsi, ma con un'attenzione, con una passione, con una predisposizione e una voglia Enzo Losso aveva fatto questo e poi aveva riavviato, era stato il motore sicuramente per la rinascita della famiglia dei Sater e Menadas della Piave. Un'associazione che punta tuttora per la verità a salvaguardare quel grande patrimonio costituito proprio dall'epopea della fluidazione del legname, dalle discese in zattera, dall'uso della zattera come mezzo di trasporto. Era il 1982 quando nasceva la nuova famiglia dei Sater, ma per la voglia, lo spirito, la grinta di Enzo Losso questo era un passo molto importante certamente, ma non era quello decisivo. Bisognava provare ad allargare perché nel corso dei suoi studi e delle sue ricerche aveva realizzato come anche in altri ambiti dell'Europa ci fosse ugualmente questa tradizione. D'altra parte, gli zattieri di Codissago erano usi ad andare anche, risaliamo naturalmente indietro nel tempo, nell'Austria, nella valle della Drava e condurre le zattele fino al Mar Nero. Alcuni abitanti di Codissago, Codissaghesi, se si può dire così, erano infatti nati proprio sulle rive del Mar Nero. E allora questa ricerca aveva portato ad allacciare rapporti con un'altra associazione molto lontana fisicamente, sui Pirenei catalani, alla Pobla del Segur. Quattro anni dopo la fondazione, proprio alla Pobla del Segur, al termine di un intervento applauditissimo di Enzo che parlava proprio della necessità di allargare i confini, prendeva vita l'associazione internazionale che Enzo battezzava così. Oggi siamo in due. Domani, credo, saremo in molti perché l'obiettivo dichiarato è quello di costituire un'associazione che copra l'Europa e la civiltà dei fiumi dai Pirenei, dove appunto si trovava fino ai Carpazzi. Lungimirante, sembrava in verità forse una chimera questa, una presa di posizione troppo ottimistica. Oggi ci sono più di 40 associazioni di 12 paesi europei che fanno parte dell'associazione internazionale. Tutto questo e anche molto altro è stato Enzo Rossoe e debbo anche dire proprio al funerale, alle esequie, erano arrivati anche i fiori di Angel Portet, che è stato a lungo presidente degli zattieri della Pobla del Segur di Raiers, per usare bene il termine della Pobla del Segur, e a lungo presidente internazionale dell'associazione. Un rapporto di grande amicizia che si è chiuso così. Davvero io credo che tutti debbano un grazie. Tutti quelli per i quali la cultura, la tradizione è un patrimonio da conservare, debbano un grande grazie. Sincero, grazie a Enzo Rosso. Ciao Enzo, ti sia a livella terra.